Ciao a tutti, oggi prepareremo i biscotti mele e gocci di cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono farine di tipo 00, burro, zucchero semolato, uovo, lievito per dolci, mele e gocci di cioccolato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la farina, il burro, lo zucchero, il lievito e l'uovo. E facciamo amalgamare per 40 secondi a velocità 5. La frolla è pronta, trasferiamola in un piano di lavoro rivestito con carta da forno. Dopo aver trasferito l'impasto sul piano di lavoro adesso compattiamolo con le mani. A questo punto incorporiamo la mela. Dopo aver incorporato la mela aggiungiamo un altro po' di farina perché l'impasto come vedete è un po' colloso e lavoriamo ancora. A questo punto aggiungiamo le gocce di cioccolato come abbiamo fatto con le mele pian pianino ed amalgamiamo. Dopo aver incorporato le gocce di cioccolato stendiamo il composto con le mani. Dopo aver steso la frolla tagliamola con un coltello a forma di piccoli rettangoli. Passate ciascun biscotto nello zucchero semolato da entrambi i lati. e posizioniamoli su una teglia rivestita con carta da forno. I biscotti sono pronti. Cuociamoli in forno preriscaldato a 180 gradi per 15 20 minuti circa. I biscotti sono pronti. Lasciamoli intiepidire prima di servire. Biscotti, mele e gocce di cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!